Accoglienza trionfale per gli eroi della terra di ghiaccio. Qualunque delle quattro pretendenti ancora in lizza si aggiudicherà gli europei 2016, difficilmente alzando la coppa davanti ai propri tifosi ne avrà una simile. All'Islanda rivelazione non è bastata la spinta dell'Europa quasi intera per avere ragione della Francia nei quarti, ma la sua prima partecipazione alla fase finale del torneo continentale rimarrà sicuramente negli occhi di tanti, non necessariamente appassionati di calcio. Che la squadra tutto cuore e tanti polmoni potesse davvero arrivare fino in fondo al torneo è stato forse solo un sogno, ma lo spirito di fratellanza che i suoi vichinghi hanno sempre mostrato sul campo vale un premio che probabilmente sarà il presidente in persona ad assegnare. E poi c'è l'ormai famoso Geyser Sound che questa volta pare intonato davanti alla nazione intera. Geyser Sound